Nasce ad Agropoli uno sportello di assistenza e ausilio ai profughi ucraini e a quanti sono disponibili da accoglierli. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola su impulso dell'assessorato alle politiche sociali. Presso l'ufficio servizi sociali, personale qualificato sarà a disposizione dell'utenza. Il progetto ha preso lo scorso 9 marzo grazie all'accordo tra Comune, Forze dell'Ordine, Asra Salerno, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Associazione Carabinieri, Piccoli Ambasciatori di Pace, Caritas, altre associazioni benefiche e parrocchie del territorio. Per tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, personale dell'ente insieme ad un'unità della protezione civile della Croce Rossa e ad una madrelingua ucraina saranno a disposizione di quanti hanno necessità di informazioni. L'ufficio infatti si occuperà dell'accoglienza, di assistenza alla compilazione della modulistica necessaria per il soggiorno e l'ospitalità in città, di assicurare aiuto per ogni bisogno primario, di natura medica, alimentare o di altro genere. Presso lo sportello comunale è stata attivata anche una banca dati delle famiglie ucraine già presenti sul territorio e di quelle disponibili ad offrire accoglienza ai profughi ucraini, costituita inoltre una rete solidale composta da personale del Comune e delle associazioni che sarà deputata ad offrire la necessaria assistenza agli ospiti ucraini presenti sul territorio come consegna di pacchi alimentari, spesa, farmaci ma anche ausilio per visite e controlli medici. Dallo scoppio della guerra in Ucraina tantissime persone sono venute a cercare aiuto, persone che fuggivano dal loro paese o nostri concittadini pronti a tendere loro una mano, ha spiegato il sindaco Adamo Coppola. Ci siamo subito attivati per garantire la massima assistenza a queste persone e continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per affrontare questa grave emergenza umanitaria. La nostra amministrazione è pronta a fronteggiare l'emergenza attraverso l'attivazione di questo sportello di assistenza e orientamento. Cercheremo di soddisfare tutti i bisogni, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D'Arienzo. È un obbligo civile e morale fare tutto il possibile per aiutare i quanti fuggono dalla guerra. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie.